buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è lunedì 15 aprile 2024 una giornata importante per fano un candidato sindaco si è presentato scelto dagli elettori nella giornata di ieri nel balottaggio tra i due rimasti in gara esponenti del partito democratico samuele mascarin e cristian fanesi beh chi ha vinto ormai credo che lo sappiate un po tutti perché sono voci queste che si propagano subito dopo che il fatto si verificano non faccio preamboli e dopo ovviamente approfondiremo il nostro discorso e diciamo subito che il candidato sindaco del centro sinistra sarà cristian fanesi e poi vedremo con quale scarto di voti e allora prima di aprire i giornali passiamo per l'almanacco del giorno e vediamo chi si festeggia oggi eccolo è un santo particolare se vi dico che è san damiano di wester dico poco ma se dico san damiano di molokai forse lo conosce lo conoscerete in più è san damiano di molokai molokai l'isola dei lebrosi belga fiammingo di origine missionario alle hawai damiano condivise in tutto per tutto la vita degli indigeni si recò sull'isola di molokai dove restituì la dignità ai malati di lebra insegnò loro ad organizzarsi a costruire una capanna a coltivare un pezzetto di terra insomma a sostenersi finché anche lui purtroppo fu colto dal terribile male e morì e morì il 15 aprile come appunto se fosse oggi nell'anno 1889 e dobbiamo dire che ai suoi funerali parteciparono partecipa partecipò una folla veramente molto molto grande di malati di lebra che lo piassero in maniera molto molto sentita molto molto emozionante un santo che è stato così reso santo negli ultimi nell'ultimo periodo insomma è stato poi papa benedetto a canonizzarlo definitivamente san damiano di wester visse nel diciannovesimo secolo ed è il santo di molokai e veniamo ora alle previsioni del tempo ancora ancora temperature primaverili oserei dire quasi estive oggi sulla regione Marche il tempo è solleggiato ma con un cielo solcato da nubi che alte talora compatte il caldo è fuori stagione la temperatura si è alzata e si alzerà ancora fino a 27 gradi la minima è di 18 il vento il vento sulle coste espirerà da sud sud ovest nell'entroterra da sud ovest e il sole il sole è sorto alle 6 e 24 e tramonterà alle 19 e 50 queste sono le previsioni del tempo e sotto all'auspicio del bel sole apriamo i giornali apriamo i giornali questa mattina a partire dal resto del carlino vediamo il sunto delle prime pagine come tutti i lunedì insomma i giornali hanno un po ridotto le loro notizie ma le hanno condensate in molte pagine allora vediamo vediamo la prima pagina del resto del carlino la pagina di pesaro eccolo qua il titolo di apertura primarie a fano tre voti decisivi fanesi batte mascarin tre voti di scarto e per conteggiarli esattamente si è proceduto ad un secondo conteggio dopo il primo perché insomma lo scarto era veramente minimo insomma sarebbero bastati tre voti per fare pari e patta insomma una cosa veramente giocata all'ultimo minuto all'ultimo voto e poi ci sono anche altre notizie sulla pagina di pesaro la cittadella della salute sarà demolita malati a rischio è un rischio questo che ventila il candidato sindaco del comune di pesaro biancani e poi ancora vandalismi vandalismi nel parco scarpellini reti tagliate biblioteca danneggiate un'orda di ragazzini insomma distrutto tutto veniamo ad ancona ad ancona vediamo che c'è stato un assalto a portanovo da parte dei turisti i quali hanno assaporato questa prima giornata quasi estiva però insomma l'afflusso di auto ha provocato colonne soste un po così alla garibaldina e sono arrivati i vigili e sono fioccate le multe e poi ancora terrorizzavano i negozianti due bulli a processo per molestie e a falconagra a falconara droga ed aspo non rispettati via i controlli ragazzi nei guai insomma erano dei ragazzi che non avevano rispettato i provvedimenti che nei loro confronti erano stati presi da parte delle istituzioni ad ascoli affermo battaglia degli apicoltori per il miele un marchio tutto marchigiano un marchio dop che possa così identificare il luogo d'origine lupa incinta travolta e uccisa sulla salaria a cento buchi un piccolo comune nei pressi della pennino folignano la sfida di paci è il momento di cambiare qui siamo nella campagna elettorale mentre a monte giorgio lavoro nero nel cantieri dell'ospedale tre denunce e maxi multe macerata macerata c'è stata la giornata dell'amicizia festeggiata dal lions club dalla vista al diabete controlli in centro e poi i recanati in ansia per uno scomparso che però è stato ritrovato in serata mentre a treia un incidente stradale schianto in moto morto il sindacalista domenico tica un lutto improvviso e allora apriamo i giornali vediamo subito la pagina di fano con quello che è accaduto nella giornata elettorale di ieri giornata del ballottaggio tra due candidati sindaco del centro sinistra samuele mascarin della lista in comune mentre cristian fanesi era il candidato del partito democratico vediamo il titolo primarie centro sinistra vince fanesi al photo finish mascarin cede per tre voti ai seggi 2022 elettori ebbene tre voti di scarto fanesi ha ottenuto mille e sette voti millequattro mascarin il candidato del pedì ha recuperato quello scarto di voti che lo ha visto in seconda posizione durante il primo turno delle elezioni vinte da samuele mascarin 47 voti che sono stati recuperati sembra che fanesi abbia prevalso ovunque ad eccezione di poderino e del settore del centro mare dove il distacco ottenuto da samuele mascarin è stato considerevole e prima di rendere ufficiale la vittoria vista l'esiguità della differenza di voti è stato fatto un ulteriore conteggio che però ha confermato la vittoria di cristian fanesi quindi per tre voti fanesi sarà il candidato del centro sinistra e qui poi ci sono delle dichiarazioni ora tutto si sposta verso la elezioni del 8 e 9 giugno quando poi si dovrà eleggere veramente il sindaco si confronteranno i tre candidati sindaco che vedremo proprio questa sera su fano tv commentare i risultati delle elezioni e evidenziare i loro programmi il loro modo di amministrare la città e sono ormai cristian fanesi per quanto riguarda il centro sinistra stefano marchigiani per i progressisti e luca serfilippi per il centro destra li vedremo questa sera su fano tv e poi parliamo del pala sport questo questa struttura che è necessaria si rivendica da tanto tempo a fano un pala sport capiente perché quello che c'è il salvatore alliende non è più sufficiente per una città dei 60.000 abitanti che aspira anche ad organizzare gare di un certo livello ma non solo gare sportive anche concerti manifestazioni eventi che possono stare allo scoperto da tanto tempo si parla di realizzare un nuovo palazzetto dello sport a chiaruccia sembrava che l'incarico se lo fosse assunto un noto imprenditore cittadino era paci della profilglas le cose però sono rimaste in cielo e quindi l'amministrazione comunale dovrebbe assorbirsi questo incarico un input viene dato da due esponenti del partito socialista fanese si tratta di ferninando maruccia e gianluca pucci e poi si preoccupano questi due anche della sorte della virtus e anche ieri ha ottenuto un bellissimo bellissimo risultato con un avversario 3 a 0 insomma non ci sono state storie comunque le gare sono state molto molto combattute al Palace Allende certo che se avesse una disponibilità maggiore se poi salisse anche di categoria allora veramente lo sport il volley fanese risalirebbe a quei alti livelli che un tempo lo hanno reso noto in tutta Italia vediamo anche questo colonnino con un fondo azzurrino qui un articolo di spalla sulla pagina di Pesaro vittoria collettiva ora si ricomincia sono le dichiarazioni di fanesi per quanto riguarda ormai la proiezione verso le elezioni del mese di giugno e beh questi sono un po' gli argomenti che riguardano Fano vediamo ora la pagina di Pesaro dove si parla di quello che è accaduto nel parco Scarpellini panchine rotte, reti tagliate, piccola biblioteca di velta l'assessore Beloni reagisce chiederò alle forze dell'ordine di annotare le targhe di tutti gli scooter che si vedono solitamente cerchetto si vendono ma insomma è un piccolo refuso si vedono solitamente vedremo se sono in regola e soprattutto l'assessore Belloni responsabilizza i genitori che lui stesso crede sia non oscuro del modo di comportarsi dei loro figli che con i loro scooter invadono il parco poi fanno questi danni se la prendono con gli arredi pubblici reti tagliate e poi anche una piccola biblioteca che poteva essere un passatempo per coloro che volevano leggere un libro in un contesto ambientale apprezzabile ebbene un dispetto senza una ragione tanto così per evidenziare la loro velleità per passare, per vincere la noia insomma come accade solitamente un incidente è accaduto a Piobbico, una escursionista cade e si fa male tra i boschi di Piobbico è stata salvata una brutta avventura per una donna di 60 anni che ieri pomeriggio è caduta su un sentiero nei pressi di case baciardi nelle foreste attorno a Piobbico con la malcapitata per fortuna c'erano altre persone che hanno dato l'allarme e hanno chiamato gli aiuti telefonando al 118 di agli a poco sono arrivate sul posto sia una squadra dei vigili del fuoco di Cagli che i sanitari appunto del 118 da quanto si è preso la donna ha avuto la distorsione di una caviglia oltre a uno slogamento di una spalla quindi è stata trasferita all'ospedale di Urbino sul posto anche il soccorso alpino provinciale è stato veramente un grande concorso di aiuti per mettere a sicuro questa donna che insomma è stata infortunata e poi vediamo la denuncia che ha fatto il consigliere Biancani per quanto riguarda il trasferimento del reparto di salute mentale da Muraglia sappiamo che a Muraglia ci sono i lavori in corso perché dovrà essere realizzato il nuovo ospedale però ancora oggi non si è identificato la nuova sede del reparto di salute mentale a rischio oltre 100 posti letto Biancani, cittadella della salute ancora senza una sede alternativa ha detto avevo suggerito di convergere sull'ex manicomio invece la regione sta perdendo tempo e la denuncia appunto del candidato del Partito Democratico e poi vediamo un attimo come la domenica è stata trascorsa dai pesaresi questa bella domenica estiva con un tepore da 27 gradi molta gente si è recata in spiaggia altri hanno fatto passeggiate in bicicletta insomma si è cominciato così questo relax estivo che con il bel tempo questi cambiamenti climatici che hanno così aumentato le giornate di sole però ci sono anche dei cambiamenti improvvisi e quindi questi sono anche molto pericolosi comunque ieri c'è stata una bella prova d'estate così come intitola il resto del Carlino tuffi e tintarella affari d'oro per i ristoranti aperti ovviamente anche in città ci sono stati molti gruppi con le guide cioè i pesaresi sono andati in spiaggia invece i turisti che sono andati in città ovviamente hanno visitato Pesaro come città d'arte sono andati in Duomo hanno visitato i musei hanno sostato in Piazza del Popolo dove c'è la biosfera insomma hanno passato una bella domenica in gita come poi qualche pesarese ha fatto in altre località molte delle persone che hanno riempito la zona mare erano pesaresi arrivati anche dalla periferia e poi una bella notizia per chi è devoto alla Madonnina dei Capuccini di Pesaro la Madonnina è tornata a brillare la statua dei Capuccini danneggiata dal terremoto è di nuovo illuminata era stata restaurata perché cadendo si era rotta e poi ora viene illuminata e brilla così nella notte un po' come la Madonnina del Duomo di Milano questa non è d'oro però insomma è ugualmente circondata da quella devozione popolare che viene così da tanto tanto tempo è una tradizione che viene da lontano la statua dei Capuccini danneggiata è di nuovo illuminata è tornata visibile anche di notte che da 50 anni la statua rappresenta l'iconico simbolo di ingresso alla città di Pesaro insomma nei pressi del cavalcaferrovia che è in corso sempre di lavori questo per quanto riguarda il resto del Carlino ora apriamo il Corriere Adriatico e vediamo come sulla pagina di Fano si parli dell'esito del balottaggio ecco qua l'articolo Fanesi vincitore per un soffio veramente per un soffio supera Mascarin di soli tre voti primarie del centro-sinistra dopo il primo spoglio è stato chiesto il riconteggio per essere sicuri di questi tre voti di scarto comunque l'esito non è cambiato e poi il Corriere Adriatico fa tutto l'elenco dei seggi dei risultati dei seggi che sono sparsi un po' in città vediamo come quasi dappertutto Cristian Fanesi ha battuto Mascarin però ci sono stati due risultati eclatanti a Poderino Mascarin prende dunque diamo un attimo a Poderino 145 no a Poderino c'è quasi un 100 voti di differenza tra i due candidati e così nella zona tra centro e mare che sono stati entrambi a vantaggio con un grosso scarto di voti a favore di Mascarin e beh un ballottaggio dunque al cardiopalmo ieri a Fano che ha richiesto un secondo conteggio delle preferenze sarà il Democrat vice di serie a sfidare Sir Filippi e Marchigiani alle elezioni di luglio ma di questo ormai abbiamo parlato abbastanza vediamo invece parliamo di un problema un problema che si evidenzia un po' tutte le primavere quando l'erba dei giardini rinasce in maniera anche rigogliosa e insomma c'è un po' di fatica per curare i prati per curare i parchi i giardini insomma dove l'erba cresce in maniera troppo veloce lavori di sfalcio la soluzione assomiglia a un baratto c'è una manifestazione di interesse che l'amministrazione comunale ha pubblicato per un intervento gratuito in cambio dell'utilizzo dell'erba è un modo anche questo per coinvolgere la cittadinanza con l'arrivo delle primavera uno dei temi di protesta canonici diventa quello relativo al taglio dell'erba che sembra moltiplicarsi a vista d'occhio ebbene in questo contesto l'amministrazione comunale ha lanciato una manifestazione di interesse allo scopo di assicurare interventi in una ventina di aree sparse per il territorio si cede l'erba in cambio del taglio gratuito quindi chi ne vuole approfittare può farlo tranquillamente e questa settimana ci saranno molte molte asfaltature nella città di Fano è infatti ripartito il piano delle asfaltature quel piano che è stato redatto e anche organizzato dall'assessorato ai lavori pubblici guidato da Barbara Brunori oggi i lavori in via Roma interessano il tratto tra le rotatorie Brigata Messina e Interquartieri e già da tempo c'erano i divieti di sosta per lasciare libero il tratto che verrà fatto oggetto di lavori ma non solo in via Roma ci sono lavori a Santosso lavori in Sassonia lavori dal centro e in periferia sono molte le strade che stanno per essere bitumate sappiamo che i lavori di asfaltatura vengono fatti durante la stagione buona quando le temperature sono idonee per consolidare l'asfalto e questa era la situazione che in questi giorni si sta determinando e quindi si incentivano questi interventi in buona parte della città Passiamo a Serra Sant'Abbondio Serra capitale per 5 coinvolte tutte le frazioni Musica Storia è una straordinaria natura programma nel nome della libertà ebbene è un'iniziativa che si svolge a Serra Sant'Abbondio questo piccolo centro ai piedi dell'Appennino percorsi condivisi tra saperi e sapori per la settimana da capitale che Serra Sant'Abbondio organizzerà e sarà al centro dell'attenzione di tutta la provincia ma io oserei dire di tutta la regione Marche e di tutto il centro Italia il centro Italia perché insomma la capitale della cultura che da Pesaro coinvolge un po' tutti i centri della provincia è un fatto culturalmente importante a livello nazionale e poi vediamo la pagina di Senigallia Ponte Garibaldi si può solo fare così punto e basta non ci sono discussioni la città non può essere divisa in due è il sindaco Olivetti che insorge e respinge le polemiche della Federcaccia gli orti del Vescovo il progetto va rivisto comunque non preoccupa dunque l'amministrazione comunale la diffida di Federcaccia per il nuovo ponte Garibaldi che impone però un ripensamento per il progetto degli orti del Vescovo già in fase di discussione tra gli enti chiamati in causa dai cacciatori pronti a passare a vie legali per scongiurare l'abbattimento della loro sede c'è anche il comune insomma i cacciatori sono ancorati al posto dove sono soliti riunirsi quindi non ne vogliono sapere di cambiare situazione e poi vediamo dunque la pagina di Pesaro pubblicata dal Corriere Adriatico saltiamo quella della Regione vediamo l'apertura ad aprile come a giugno subito assalto alle spiagge è caos anche per la sosta questo è un inconveniente che si ripresenta un po' sempre quando c'è un ammasso di gente lungo certi punti di grande attrazione come sono le spiagge sotto monte tra Pesorefano, Baia Flaminia insomma sono le spiagge più affollate del nostro territorio e qua vediamo alcune immagini di bagnanti ancora non ci sono ombrelloni però insomma ognuno fa un po' un fai da te e qualche bagnino ha già anticipato perché poi la stagione ufficiale si apre il primo maggio e poi quindi partono un po' tutte le attrezzature dei concessionari di spiaggia stabilimenti accessibili anche per chi è disabile la richiesta è emessa agli stati generali che si sono tenuti sabato scorso e questo è veramente importante gli stati generali dell'accessibilità che si sono svolti nella giornata di sabato all'auditorio Scavolini sono stati anche una sfida per essere competitivi a livello di accoglienza è certo una città turistica che mostra sensibilità nei confronti dei disabili è una città che può attrarre ancora di più rispetto alle altre l'Ast ha aperto dossier importanti per il nuovo DG non si perda tempo ebbene c'è una presa di posizione dei sindacati della ANAO Assomed che interviene dopo le dimissioni della Storti della dirigente della direttrice dell'azienda sanitaria territoriale sollecitando la regione e offrendo la collaborazione ebbene il vuoto creato da Nadia Storti è un vuoto importante un vuoto problematico da colmare e questo mette anche un certo imbarazzo alla regione Marche che si trova di fronte a una presa di posizione che è di per sé insomma un messaggio che si vuole lanciare per l'efficienza dei nostri servizi sanitari Ricci pedala da Fano a Roma il sindaco parterà in bici venerdì 19 dall'arco di Augusto di Fano per arrivare a Roma il 23 aprile beh una bella impresa quella del sindaco Matteo Ricci che vorrà farlo in bicicletta siamo in conclusione voglio segnalarvi soltanto quest'ultimo articolo che abbiamo già menzionato escursionista cade e si infortuna su un sentiero del Monte Nerone nei pressi di Piobbico si tratta di una sessantenne pesarese era con la figlia un gruppo di amici soccorsa dai vigili del fuoco una brutta avventura che si è risolta per fortuna non in modo drammatico e con questa notizia chiudiamo il nostro giornale e io vi do come sempre appuntamento a domani sempre alle 7 grazie per l'ascolto e a risentirci grazie a tutti